ciao a tutti ragazzi sono fabio benvenuti al mio canale oggi volevo mostrarvi un piccolo tutorial su come realizzare skin per r factor 2 alcuni di voi mi hanno richiesto questo video giusto per avere un'idea molto lineare di come poter realizzare una skin su una vettura di r factor 2 allora voglio precisare che innanzitutto per poter creare questa skin ci necessitano di programmi come photoshop o gimp comunque bisogna avere un plugin che dovremo scaricare sia per photoshop o per gimp se stiamo utilizzando gimp dovremo recarci su google e cercare come estensione da scaricare il dds in descrizione vi lascerò il link per quanto riguarda gimp oppure per quando riguarda photoshop dovremo scaricare questo plugin e installarlo una volta installati i plugin per nostro photoshop per il nostro gimp cosa ci resterà da fare dovremmo innanzitutto aprire r factor 2 in single player perché da lì dovremmo iniziare uno dei passaggi che diventa fondamentali per la creazione della skin una volta avviato r factor 2 cosa dovremmo fare dovremmo andare sui veicoli e selezionare l'auto di nostro interesse io nel mio caso voglio creare una skin per la vtcr 2018 al far romeo adesso cosa dovrò fare seleziono un'auto e vado sullo showroom una volta aperta l'auto sullo showroom cosa dovremmo fare dobbiamo cliccare sul tasto crea direct e una volta sul tasto ricarica questo perché perché ci permetterà di sbloccare le varianti quindi ci permette di passare tra giorni morbidelli ed alt quindi qua cliccare sul tasto crea una volta aperta questa finestra dovete inserire dati che vi vengono richiesti e inoltre vi consiglio di mettere lo stesso nome pilota nella voce descrizione dell'auto questo perché perché il nome verrà visualizzato nell'elenco dell'auto selezionata e adesso ve lo faccio vedere una volta inserite dati oltre ai singoli piloti vi dovrebbe apparire quello che avete aggiunto voi in questo caso quello che aggiunto io adesso possiamo chiudere il refactor 2 e a passare alla creazione della livrea una volta chiuso il refactor 2 cosa dobbiamo fare dobbiamo aprire steam andare sulla libreria cercare il refactor 2 tasto destro proprietà file locali sfoglia i file locali ecco qui voglio aprire una piccola parentesi allora per poter creare le nostre skin abbiamo bisogno dei template alcuni di questi template delle auto del gioco o delle mod che acquistiamo possono essere presenti nella cartella template io ad esempio quelle per le mie vetture come quella dell'alfa romeo l'ho già inserita dentro questa cartella template se andiamo ad aprire troviamo come detto appunto questi file delle varie vetture e noi dovremmo semplicemente selezionare quello di nostro interesse aprirlo sul nostro programma di editing ma prima di fare questo voglio farvi vedere un'altra cosa se andiamo un attimo un passo indietro su refactor 2 andiamo su questo percorso user data player setting allora dentro questo percorso troviamo delle cartelle di piste ed auto e noi dovremmo cercare la cartella relativa all'auto precedentemente aperta su refactor 2 nel mio caso l'alfa romeo nel mio caso trovo la cartella fabio napolitano perché è stato il pilota che ho creato poco fa sullo showroom e qui troviamo un file l'alt.dds e un alt.json a noi momentaneamente questi file non servono perché vi ho fatto aprire questo percorso perché la skin che andremo a creare col nostro photoshop o gimp verrà salvata in questo percorso quindi refactor 2 user data player setting la cartella dell'auto da voi diciamo da voi creata precedentemente e la cartella del vostro pilota adesso noi apriamo il nostro photoshop il nostro gimp e andiamo a vedere come creare la librea quindi noi cosa faremo ci selezioneremo il template di nostro interesse e lo apriremo sul nostro programma di editing allora ragazzi una volta aperto il nostro template su photoshop o su gimp dovremmo avere una situazione simile a questa che state vedendo qui quindi vedete l'auto perso per pezzo e qui trovate nella diciamo nel pannello dei livelli ovviamente dovete avere un minimo di conoscenza del programma che andate ad utilizzare quindi o photoshop o gimp quindi non vi starò a spiegare cosa sono i livelli o come funziona photoshop qui troviamo tutti gli elementi della vettura e qui sui livelli altrettanto dove noi possiamo selezionare e modificare insomma quello che ci interessa quello che andremo a fare cos'è dovremmo trovare tra i livelli disattivati un qualcosa del genere ecco da questa retinatura che ci dà più la sensazione di quello che dovremo andare a toccare dove poter posizionare i nostri adesivi diciamo personalizzare l'auto a nostro piacimento io adesso porterò il video avanti farò una skin molto semplice giusto poi per farvi vedere il risultato finale della skin allora ragazzi ho realizzato una skin così veloce aggiungendo un'immagine un numero uno sponsor giusto per farvi capire che tramite anche quell'immagine che vi ho fatto vedere precedentemente delle linee che disegnano perfettamente i bordi delle auto voi potete inserire con netta precisione vostra diciamo fantasia tutto quello che volete nei vari posti della vettura adesso cosa ci basterà fare dovremmo salvare questo file dentro il percorso precedentemente visto cioè quello del pilota quindi cosa andremo a fare andremo a dare file salva con nome e io vado a recarmi nel mio percorso quindi common rfactor 2 user data player setting vado a cercare la mia alfa romeo vado sul mio pilota come estensione ragazzi bisognerà mettere dds seleziono questo perché a me non interessa do lo stesso dendico nome e vado su salva mi dice ovviamente sostituire il file di così e dopo salva nel frattempo che attendo è salvato già la skin ragazzi colgo l'occasione per mostrarvi questa pagina di cui vi lascerò il link in descrizione che mostra passo passo come realizzare una skin e anche qualche nozione più avanzata nella sua realizzazione infatti è possibile anche modificare altre cose ragazzi dal parabrezza le tonalità dei colori nei vari punti dell'auto quindi giù in descrizione trovate il link e dategli un'occhiata ragazzi una volta salvata la vostra skin cosa dovrete fare dobbiamo riaprirci nuovamente rfactor 2 andare sul veicolo selezionare il pilota che noi abbiamo creato e cliccare sullo showroom ecco qua ci dovrebbe aprire la skin che noi abbiamo creato ora la nostra è fatta così molto molto vaga però vediamo che le immagini che abbiamo applicate ci stanno tutte quindi da qui possiamo controllare se qualche logo va bene se va rimbicciolito meno e quindi di volta in volta possiamo modificare la skin da noi creata ecco qui ragazzi questo è semplicemente un passaggio per come creare una skin utilizzando un template io spero di esservi stato utile ragazzi se avete dubbi o domande non esitate a scriverlo qui sotto nei commenti io vi ringrazio noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live un saluto a tutti ciao ciao